ok salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro vincenzo in studio ragazzissimi amo su chicken gun ragazzi direi di andare dai vai vai ecco fatto sconvitto là ce n'è un altro ma dove si entra? dove si entra raga? qua si entra ok maledetto andiamo 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 ok ce ne possiamo andare raga ce ne possiamo andare vai 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 no ok andiamo a spararli spariamoli tutti raga anche lui anche lui ce ne sono altri? no possiamo andare raga un'altra partita vinta di chicken gun molto bene molto bene altra partita vinta raga molto molto bene e va bene ragazzi ci sono i prossimi di chicken gun e ci sono i prossimi di chicken gun ma anche qui